Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono T e oggi siamo qui per analizzare un affascinante gioco indie rilasciato molto recentemente, House. House è un gioco survival horror con uno stile pixeloso e con visuale dall'alto. Devo ammettere che fin da subito House ha attirato la mia attenzione per una moltitudine di elementi. Primo fra questi, la meccanica che costringe il giocatore a morire molteplici volte per iniziare a capire cosa stia accadendo nella casa di Tubby, la coraggiosa protagonista. Tubby dovrà risolvere una serie di enigmi utilizzando ciò che ha a disposizione per sopravvivere fino alla mezzanotte, orario in cui suo padre rientrerà a casa. Il compito sfortunatamente sarà reso sempre più difficile da un'infinità di stranezze che andranno ad aumentare col passare del tempo e porteranno ogni membro della famiglia ad una morte spesso molto cruenta. Per ricostruire la storia di House bisogna tornare al 2016 e più precisamente al 30 ottobre di quell'anno, giorno della pubblicazione da parte della Bark Bark Games della versione flash del gioco in onore di un game jam. Grazie all'attenzione ricevuta dal gioco e dai premi da esso ottenuti, dopo 4 anni il 16 ottobre 2020 è stato possibile pubblicare una versione integrale di ciò che era stato presentato durante l'evento. Per chi fosse interessato è tuttora possibile giocare alla vecchia versione in flash tramite il Newgrounds Player, mentre la versione completa può essere reperita su gamejolt, steam o itch.io. Ovviamente ci sono alcune differenze tra la versione completa e quella in flash, tra quelle più degne di nota possiamo trovare la possibilità di portare con sé un singolo oggetto, l'assenza di gran parte degli antagonisti, la randomicità degli spawn del gatto e la possibilità di sollevarlo e spostarlo a piacimento. Questa versione di gioco inoltre presenta solo tre finali, ovviamente non ve li spoilererò per adesso dato che in seguito ci sarà una sezione dedicata interamente ad essi. Torniamo ora alla versione completa del gioco. Credo sia il momento più adatto per introdurre i personaggi principali. Tabby, sua sorella, suo padre, sua madre, sua nonna, Toby, i suoi animali domestici e la vicina. Tabby, il cui vero nome è Tabitha, è la protagonista di questo loop infinito di disgrazie. Lei sarà uno dei pochi personaggi in grado di mantenere i ricordi di ciò che accade ad ogni loop e a modificare il suo modo superandi di conseguenza. Melody, la sorella di Tabby, pare essere caduta in uno stato di profonda depressione probabilmente in seguito all'assassino di Toby da parte di suo padre. Pare infatti che lei e Toby avessero avuto un qualche tipo di relazione e che il padre di Melody fosse contrario. Alcune delle passioni di Melody sono la musica e il giardinaggio, ma a causa della sua condizione tutto ciò che tenterà di fare attivamente o passivamente potrebbe portarla alla morte. Lisa, la madre di Melody e Tabby, pare soffrire anch'essa di depressione, che cerca di soffocare tramite l'abuso di alcol. Anche nelle sue condizioni però, Lisa si preoccupa per le sue figlie e perlomeno cerca di sfamarle. James, il padre di Melody e Tabby, pare essere quello su cui la maledizione della casa ha avuto più effetto. James infatti sfoga il suo malcontento con l'omicidio, come dimostrato dalle sue azioni non appena tornato a casa e dalla fine che ha fatto fare al povero Toby. Toby pare essere stato un ragazzo che abitava nel vicinato e che ha intrattenuto una breve relazione amorosa con Melody, fino a quando James non l'ha bruscamente interrotta togliendogli la vita. Se andremo nel seminterrato una volta entrati nella modalità tempo congelato, che esploreremo più a fondo in seguito, potremo interagire con il fantasma di Toby, che ci dirà cose diverse a seconda dell'oggetto che avremo tra le mani. La nonna di Tabby, della quale sfortunatamente non conosciamo il nome, sarà un personaggio passivo che apparirà unicamente sotto forma di fantasma se faremo molto rumore, per esempio raccogliendo e facendo cadere ripetutamente la palla da bullying. L'unica cosa che farà sarà un cenno con il dito per intimarci di fare silenzio e poi scomparirà subito. Marty è una piccola chiocciolina verde in grado di parlare a Tabby. Marty comparirà nella stanza del pianoforte solo dopo aver fatto morire Tabby almeno dieci volte. Solitamente Marty sarà sempre propenso ad aiutarci, tranne se Tabby dovesse uccidere la vicina. Se Marty deciderà di aiutarci, salirà sulla nostra testa e ci permetterà di muoverci più rapidamente del normale. Il gatto è uno degli animali domestici di Tabby e per qualche motivo ha deciso di fare un pisolino proprio sulla chiave che ci servirà per entrare nello sgabuzzino. Dopo averlo svegliato, potremo prendere la chiave senza problemi. Se il gatto sarà ancora vivo quando la stanza con il pianoforte avrà preso fuoco, ad un certo punto ci entrerà ed avremo a che fare con un gatto incendiato. Se il gatto morirà sotto qualsiasi circostanza, comparirà invece una sua versione demoniaca che attaccherà Tabby per vendicarsi. Il ratto è l'altro animale domestico della famiglia e lo potremo incontrare una volta entrati nello sgabuzzino. Al contrario del gatto che è passivo e di Marty che ci vuole attivamente aiutare, il ratto sarà aggressivo e cercherà di ucciderci a meno che non gli si porti un panino o lo s'intrappoli con la trappola per orsi. La vicina è un personaggio un po' ambivalente. Pur non essendo stile nei confronti del giocatore, la sua natura da Rock Rock Bee potrebbe suscitare qualche dubbio sulle sue reali intenzioni. Le Rock Rock Bee sono figure mitologiche derivate dal folklore giapponese. Sono degli yokai, delle creature con poteri sovranaturali che possono sia aiutare che infastidire gli uomini. Le Rock Rock Bee sono creature neutrali e si suddividono in due categorie, quelle in grado di allungare il proprio collo e quelle capaci di far fluttuare liberamente la propria testa. La vicina non agirà mai maliziosamente ed anzi sarà spesso disponibile ad aiutare Tabby nel raggiungimento dei suoi obiettivi. Se durante una delle nostre partite decideremo di uccidere la vicina, Marty non vorrà aiutarci durante la run successiva. Oltre a Tabby, la vicina è l'unico personaggio consapevole dei vari loop temporali che avremmo vissuto fino a quel momento. Un discorso un po' più particolare bisognerebbe farlo per Dolly, una bambola che può essere trovata nella stanza di Tabby. Dolly è una bambola senziente che comparirà ogni volta che completeremo un finale per prendere in giro il giocatore e fargli sapere che non si sta avvicinando neppure minimamente alla soluzione dell'enigma che si cela dietro alla maledizione. Come personaggio Dolly è difficile da classificare in quanto potrebbe essere semplicemente frutto dell'immaginazione di Tabby, ma dato che gioca un ruolo importante per ottenere il true ending, ho voluto menzionarla comunque. Le meccaniche che contraddistinguono House sono principalmente 5. Il diario di Tabby che terrà nota dei nostri progressi. Ci sono 11 avvenimenti che spingeranno Tabby ad annotare qualcosa sul suo diario, anche se solo i primi 3 ci daranno un po' più di informazioni sulla sua situazione. Per riassumere brevemente le annotazioni, abbiamo la prima, che sarà disponibile fin dal principio, ci farà sapere che da poco Tabby e la sua famiglia hanno traslocato e che la casa nella quale ora si trovano pare avere qualcosa di strano. La seconda si sbloccherà morendo almeno tre volte e riguarda proprio l'atto di morire. Tabby annota infatti che le pare di rivivere sempre lo stesso giorno ogni volta che viene uccisa e che non è più in grado di distinguere la realtà dai violenti sogni che crede di star facendo. La terza si sbloccherà esplorando per la prima volta il seminterrato nel quale troveremo il cadavere di Toby. Sia Tabby che tutti gli altri membri della famiglia sono consapevoli del suo decesso e cercano di ignorare l'accaduto rendendo inaccessibile la camera da letto sotto la quale il cadavere di Toby si sta lentamente decomponendo. Da questo punto in avanti tutte le annotazioni di Tabby avverranno in seguito all'ottenimento di alcuni finali ed esprimeranno unicamente frustrazione o altre emozioni provate dalla piccola protagonista in base a ciò che avrà vissuto. Le morti, che saranno necessarie per svelare i misteri che si vengono dietro la casa. Secondo le nostre azioni potremo provocare o meno la comparsa di mostri e pericoli aggiuntivi. Solo dopo averci interagito però potremo capire sotto quali condizioni si attiveranno o diventeranno pericolosi e di conseguenza come operare al meglio per poter sopravvivere. Il tempo, essenziale da tenere sempre sotto controllo in quanto in base a ciò che faremo degli eventi scriptati accadranno in un determinato orario. Tra gli avvenimenti più importanti da ricordare ci sono. Dalle 10.35 alle 11.20 Lisa, la madre di Tabby, passerà il tempo a barricare la porta della sua stanza da letto per impedire alle figlie di scoprire ciò che si nasconde nel seminterrato. Alle 14.20 Melody inizierà a suonare il pianoforte. Alle 17 il candelabro cadrà sul piano dandogli fuoco e uccidendo Melody. Dalle 20 in poi la stanza con il pianoforte non sarà più accessibile a causa dell'incendio che si sarà venuto a creare. Alle 23 la maggior parte dei mostri inizierà a scomparire. A mezzanotte il padre di Tabby, James, tornerà a casa. Quando si starà giocando la partita a volta a ottenere il true ending, il tempo smetterà di avere significato dopo che Tabby avrà distrutto il pendolo e si entrerà in uno stadio chiamato Frozen Time, ovvero tempo congelato. In questa condizione gran parte dei nemici svaniranno e saranno sostituiti da un gruppo di husk che analizzeremo più a fondo in seguito. L'inventario, che ci consentirà di trasportare con noi degli oggetti che ci permetteranno di modificare il corso degli eventi a nostro piacimento. Tra gli oggetti più significativi che Tabby potrà utilizzare ci sono la palla da bowling, l'ascia, il fucile, la trappola per orsi, la fionda e ovviamente la paperella di gomma. I finali, che assieme alle annotazioni del diario di Tabby ci aiuteranno a capire qualcosa in più su ciò che sta accadendo. Nel gioco ci sono sei finali, anche se uno di questi è considerabile extra, dato che è stato aggiunto in seguito con il rilascio di un DLC. Il primo finale si chiama Patricidio e consiste nell'uccidere il nostro padre che rincaserà una volta scoccata la mezzanotte. Sconfiggerlo non sarà un'impresa facile, dato che dovrà essere attaccato tre volte prima di morire definitivamente ed ogni volta che verrà danneggiato cambierà forma e pattern di attacco. Il secondo finale, sotto il nome di Brava Bimba, consiste nell'uccidere ogni singolo membro della famiglia, inclusi il gatto e il ratto. Una volta fatto ciò, bisognerà aspettare la mezzanotte ed una volta che James sarà tornato a casa, ci sarà una breve cinematica che farà vedere i due abbracciarsi. Questo probabilmente accade perché James crede che la maledizione della casa abbia completamente corrotto Tabby, portandola ad uccidere tutti gli altri. Il terzo finale si chiama La Canzone e per ottenerlo sarà necessario far sopravvivere Melody a tutte le sue tendenze suicide, distruggendo gli oggetti che potrebbe utilizzare per togliersi la vita. Una volta fatto ciò, Melody deciderà di andare a stendersi sul letto in preda alla disperazione. Se le consegneremo Dolly, Melody sarà in grado di addormentarsi. A mezzanotte, Melody si sveglierà ed andrà in soggiorno a suonare il flauto poco prima che James torni a casa. Non appena James sentirà la canzone di Melody, tornerà in sé ed osserverà incredulo l'arma che stava brandendo, terrorizzato da cosa avrebbe potuto fare se non fossero insavito. Il quarto finale, chiamato Salva la tua famiglia, consiste nel fare esattamente l'opposto del finale 2 e salvare tutti i membri della famiglia. Per ottenere questo finale, Tabby dovrà sfuggire ad un nemico alquanto temibile, la Lankler, che comparirà alle 21 uscendo dal frigo della cucina. La difficoltà nell'affrontare la Lankler sta nel fatto che non può essere uccisa o fermata in nessun modo, l'unico modo per sopravviverle è attendere la mezzanotte. Questo le farà esplodere la testa e consentirà a tutta la famiglia di vivere tranquillamente assieme ai loro inusuali animali domestici. Il quinto finale è il True Ending, ma compare anche sotto il nome di Liberazione. Per poter ottenere questo finale, sarà necessario aver prima tenuto tutti gli altri ed aver distrutto il pendolo. Ciò ci consentirà di accedere alla modalità Tempo Congelato, che renderà la casa stessa un nemico, dato che compariranno una serie di organi che dovremmo distruggere per poter accedere al nascondiglio del burattinaio. Ogni organo deve essere distrutto diversamente. Per gli occhi sarà necessario usare la fionda, bisognerà tagliare le dita usando l'ascia e rompere i denti facendoci cadere sopra la palla da bullying. Tutto ciò, mentre un gruppo di husk ci inseguirà ininterrottamente. Una volta fatto ciò, comparirà un grande cuore incatenato nel centro del soggiorno e bisognerà sparargli con il fucile per distruggerlo. A questo punto, Tabby sarà inghiottita da una voragine buia dove potremo trovare i cadaveri del ratto, del gatto e di Melody. Dopo aver esplorato il baratro per un po', potremo incontrare il burattinaio, un'entità misteriosa che comparirà unicamente sotto queste condizioni. Il burattinaio intrappolerà Tabby, che per liberarsi sarà costretta a sacrificare un braccio. Dopo essersi liberata, Tabby ucciderà il burattinaio con la sua fedele ascia e viverà il resto della sua vita in pace. Ottenendo il quinto finale, potremmo anche giocare il secondo capitolo della storia, incentrato invece sulla sorella di Tabby, Melody. Mi piacerebbe conservare questa sezione di gioco per un ipotetico secondo video su House. Fatemi sapere nei commenti se vi interesserebbe vederlo e magari, tra un po' di tempo, potreste ritrovarvelo del tutto inaspettatamente su questo canale. Dopo aver ottenuto il finale numero 5, nella casa, inizieranno a spawnare anche delle rane, che ci permetteranno di ottenere il sesto finale. Infatti, se Tabby ucciderà 8 rane prima della mezzanotte, al posto di James si presenterà il Signore delle Rane, che sarà un boss molto più coriaceo rispetto a James, dato che avrà il doppio della vita. Uccidendo il Signore delle Rane, si potrà ottenere il finale bonus. Dato che prima ne avevamo parlato, i finali presenti nella versione in Flash erano Patricidio, Brava Bimba e Salva la tua famiglia. Parliamo ora dei nemici che perseguiteranno Tabby durante le sue avventure. Cominciamo subito con l'Akaname, ovvero il mostro che emergerà dal gabinetto. Sarà lei ad incitare Tabby ad uccidere tutti i membri della sua famiglia. Infatti, se Tabby ne ucciderà almeno uno, potrà evitare di farla emergere dai meandri dell'abisso e potrà parlare con lei amichevolmente. Anche in questo caso, per capire appieno che cosa rappresenti l'Akaname, dobbiamo affidarci alla mitologia giapponese. Gli Akaname, infatti, sono anch'essi una categoria di yokai abbastanza diffusi nel folklore nipponico. La rappresentazione dell'Akaname in-house è molto diversa da quelle presenti nei testi sugli yokai, però. Nei testi viene infatti specificato che lo scopo dell'Akaname è solo quello di leccare la muffa e la sporcizia dagli ambienti umidi delle abitazioni, come ad esempio i bagni, per ottenere le sostanze nutritive necessarie per sopravvivere. Solitamente gli Akaname sono descritti come minuti, con arti artigliati ed una testa sproporzionata rispetto al corpo. La Banshee compare nella stanza dei genitori di Tabby una volta passate le 17 e non può essere ferita o uccisa in nessun modo. Se Tabby dovesse rimanere nella stanza troppo a lungo, la Banshee inizierà a correre rapidamente verso di lei per ucciderla. La natura della Banshee si rifà stavolta al folklore irlandese. Il suo nome infatti significa donna delle fate ed è una figura mitologica che piange costantemente la morte di uno dei suoi membri della famiglia. Gli elementi caratterizzanti di una Banshee solitamente sono una lunga veste grigia e un'espressione disperata contraddistinta da occhi piangenti. A volte le Banshee assumono anche il ruolo di portatrici di morte e un po' come le sirene cantano per attirare delle vittime sfortunate e portarle alla morte. Molto probabilmente l'apparizione della Banshee proprio nella stanza dei genitori di Tabby non è casuale dato che sotto di essa si trova il cadavere di Toby. La Lankler è invece il mostro che emergerà dal frigo della cucina. È considerata un boss in quanto è davvero difficile sopravviverle ed è fisicamente molto simile alla Kaname. Sfortunatamente non sono riuscito a trovare ulteriori informazioni sul suo conto, quindi se magari qualcuno di voi è più esperto di me in mitologia può tranquillamente lasciarmi un commento per spiegarmi che cosa dovrebbe rappresentare esattamente questo mostro. La Sarta sarà un altro nemico che Tabby potrà incontrare. Questa volta non pare essere collegata a nessun folklore specifico ed è un nemico piuttosto secondario. Una volta incontrata la Sarta, Tabby dovrà trovare un modo per ucciderla, altrimenti sarà perseguitata da lei fino alla fine della partita. La Sarta può essere uccisa più o meno da ogni arma in grado di ferire anche gli altri membri della famiglia, il che fa presupporre che abbia una forma fisica e non sia soltanto una comparsa spettrale. Gli spiriti sono per l'appunto gli spiriti di tutti coloro che non sono riusciti ad infrangere la maledizione e che di conseguenza hanno perso la vita a causa sua e sono stati costretti a vagare per l'eternità nella casa. Inizialmente gli spiriti saranno passivi nei confronti di Tabby, ma passate le 17.30 cercheranno attivamente di porre fine alla sua vita. Esistono due tipologie di spirito, uno spirito uomo ed uno spirito donna, che si differenziano dal colore dei loro occhi, rispettivamente rossi o verdi. Gli spiriti possono essere evitati con facilità e possono anche essere scacciati con la fionda. Gli Ask possono essere incontrati solamente una volta entrati nella modalità a tempo congelato e sostituiranno tutti gli altri nemici. Ne spawneranno cinque non appena Tabby avrà distrutto il pendolo nel corridoio, ma potranno essere sconfitti con vari metodi, un po' come per la Sarta. Gli Ask sono anch'essi delle figure mitologiche caratterizzate dall'aver perso l'anima dopo la morte. Sono di conseguenza solo dei corpi in decomposizione guidati unicamente da sentimenti e ricordi. Gli Ask prendono di mira solo coloro che sono venuti a conoscenza del loro segreto, con l'intento di ucciderli. Pare che gli Ask siano stati creati da una divinità chiamata Curatore o Cantastorie, la divinità di tutto ciò che è stato dimenticato. Anche in questo caso non credo che la comparsa degli Ask proprio nel momento in cui si stia cercando di ottenere il true ending sia casuale. Credo infatti che ogni Ask rappresenti un membro della famiglia, uno per Lisa, uno per James, uno per Melody, uno per il gatto e uno per il ratto. Agli occhi della maledizione ognuno di loro poteva apparire colpevole e meritevole di incontrare la morte. Oltre a tutti questi nemici, in base a come Tabby si organizzerà durante la run, potrebbero comparire anche una versione demoniaca di Melody, di Lisa, del gatto e del tappeto del corridoio. Ognuno di essi compare per vendicarsi con Tabby per averli lasciati morire e saranno piuttosto difficili da evitare, soprattutto assieme agli altri pericoli che già di base attenteranno alla sua vita. Un discorso a parte dovrebbe essere fatto per il burattinaio. Come indica il nome, dovrebbe essere lui ad aver creato la maledizione della casa, in quanto dopo averlo ucciso nel true ending permetterà a Tabby di continuare a vivere tranquillamente. È quindi possibile che si sia venuto a creare una sorta di gerarchia tra mostri. Il burattinaio ha creato la maledizione della casa, che si è rivelata così potente da dare vita ad ulteriori creature macabre. La Kaname ha l'obiettivo di corrompere Tabby, la Lankler ha l'obiettivo di corrompere completamente Lisa, cosa che in parte pare essere già riuscita a fare, James d'altro canto non ha bisogno di essere corrotto, dato che la sua stessa natura d'assassino l'ha corrotta a sufficienza. Ed anzi, è proprio lui che in quanto mostro, e non più essere umano, ha l'obiettivo di corrompere Melody, cosa che pare essere quasi riuscita ad attuare. Quindi, dopo tutta questa carrellata, come potremmo considerare House? Penso che l'analisi che vi ho proposto abbia evidenziato quali sono secondo me i punti di forza di questo interessante videogioco. Credo che la fusione di elementi appartenenti a diversi folclori sia davvero particolare, ed unita all'art style e alla storia presentate, secondo me rende House un titolo degno di entrare a far parte della libreria videoludica di tutti gli appassionati dei giochi indie horror. Per quanto riguarda le sensazioni che mi ha suscitato personalmente durante il gameplay, devo dire che ritrovarsi all'inizio della partita spiazzati come la protagonista, e non essere in grado di comprendere che cosa stia accadendo, ha, almeno nel mio caso, aiutato molto l'immersione e ha reso l'obiettivo di risolvere il mistero della casa quasi una missione personale. L'atmosfera è senza dubbio accentuata anche in questo caso dalla musica, elemento che non deve mai essere tralasciato, e dall'incontro di nuovi nemici o enigmi ogni qualvolta compieremo qualche progresso, rinnovando il senso di sfida che il giocatore proverà. Proprio i pericoli che la giovane Tabby incontrerà sono un altro elemento centrale che rendono l'atmosfera molto più pesante, visto che non si potrà mai essere sicuro di quali mostri appariranno o quali oggetti prenderanno vita per cercare di ucciderci, tenendoci costantemente sulle spine. Pur trattandosi di un breve giochino nato come gioco in Flash, non vorrei che House venisse dimenticato come succede con molti giochi presentati ad eventi come i Game Jam. L'obiettivo principale di questo video è proprio cercare di informare più persone possibili della sua esistenza e cercare di creare una piccola comunità di nicchia affezionata a questo titolo. Perlomeno spero che il breve escursus che abbiamo compiuto nella mitologia vi sia risultato interessante. Con questo io concludo la prima parte dell'analisi di House e noi ci rivedremo sicuramente nel... prossimo video! Grazie! Grazie!